Bentornati su MyFootballGersy. Oggi vediamo la terza maglia della Juventus per la stagione 22-23. In edizione fan, la maglia dedicata ai tifosi, la maglia di Vlaovic. La terza maglia da calcio Adidas Juventus 2022-23 introduce un design sgargiante in rosa e blu, dominato da un motivo grafico astratto all-over e caratterizzato da loghi sia bianco Adidas e Juventus che blu Jeep. La colorazione ufficiale della terza maglia della Juventus 22-23 è Collegiate Royal, Acid Red, White. Un semplice girocollo blu e pannelli blu sotto le maniche completano il look insieme alle tre strisce bianche poste sulle spalle. Lanciata il 5 settembre 2022, la terza maglia Juventus 22-23 si completa con pantaloncini e calzettoni blu o bianchi. La squadra non sta mantenendo le attese e diciamo quest'anno sta andando malino, però questa maglia secondo me è molto bella e nella mia classifica questa prende 4 stelle. Bella, fatta bene in ogni dettaglio, con le finiture giuste, le cuciture che non dà un fastidio, dei colori brillanti. Qui in alto vedete il costo che per una versione fatta così bene e con dei tempi di spedizione così veloci, questa è arrivata in 18 giorni, è veramente bassissimo. Qua in basso, in descrizione, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Non vi rimane quindi che mettere alla prova il sito. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Spero nel frattempo che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.